L'altro giorno ci siamo recati a Gioetauro, precisamente in via Smara, dove alcune famiglie rom vivono in condizione di estrema precarietà. La situazione è allarmante, l'acqua è presente in ogni angolo, creando un ambiente malsano e difficile. Tuttavia, parlando con alcuni residenti, abbiamo scoperto che queste famiglie non intendono lasciare il loro territorio. Qui è il nostro rifugio, il nostro modo di vivere. Affermano, sottolineando un attaccamento profondo al luogo che è considerato parte della loro identità, nonostante la difficoltà delle condizioni abitative. La loro volontà è di rimanere evidente, rilevando una realtà compresa che merita attenzione e comprensione. Ci siamo andati ai spazzini. Stanozzi, come è? Oggi è un bagno. Sto solo. E vedete che è la merita. E vedete? Odor. Mi scende l'acqua? Sì, spagna, piove. Che non costano la merita cosa? Non cattano. O mangiare, ma hai scato 300 euro a pagare l'occhio. Una casa per avere anche buona dignità. Una casa quando voglio. Lei vuole stare qua, signora? Sì, ma giusto stare. Sì. Sì. Grazie.